All'arma ambientale a Scicli e Donna Lucata, non solo cumuli di rifiuti in strada, ma anche topi morti e cassonetti dati alle fiamme. Cittadini indignati protestano sui social. Pericolosissime corse clandestine notturne a Barina di Ragusa, è quanto denunciano alcuni residenti, interviene l'opposizione che punta il dito contro diversi problemi a Ragusa Superiore. Fissato per il prossimo 17 luglio, un importante incontro per definire il progetto sul Parco degli Iblei. Presenti, oltre ai sindaci interessati, anche il ministro e l'assessore regionale. Basket schiacciate e tanto spettacolo in Piazza Malta a Barina di Ragusa per la manifestazione Dunk Show, protagonisti due campioni di acrobazie a canestro. Ben trovati con l'informazione di Canale 74, lo avete sentito dai titoli, parliamo di Scicli dove continua l'emergenza rifiuti. E i cittadini, che ormai sono giunti al limite della sopportazione, insorgono sui social con foto che documentano lo scempio ambientale nelle frazioni balneari e nelle campagne. Non solo discariche abusive, ma anche topi morti e cassonetti dati alle fiamme. Sentite. Non si ferma l'emergenza rifiuti a Scicli e nelle frazioni rivierasche. Tanti, troppi rifiuti depositati ai lati delle strade e vicino ai cassonetti. A formare discariche abusive che con il caldo esalano odori nauseabondi. E i cittadini insorgono sui social. Su una pagina in particolare, Scicli, la voce del popolo, spuntano ogni giorno foto con tanto di didascalia del luogo dove si trova lo scempio ambientale e degli ingombranti abbandonati accanto ai rifiuti. C'è di tutto. Amianto a pezzi, lastre di vetro, vecchi condizionatori, oggetti di plastica, ma anche sedie e arredi da giardino. E due ingombranti sempre presenti, i vecchi materassi e i frigoriferi. Le zone più segnalate dai cittadini sembrano essere quelle di Donna Lucata, con la discarica di Via Patrasso, a pochi metri dal lungomare. La strada è bonificata più volte e la zona di Contrada Timperosse. In Via Maratona, sempre a Donna Lucata, la strada risulta impraticabile, oltre che per l'accumulo di rifiuti, anche per una perdita di un tubo dell'acquedotto. E anche Cavadaliga, soprattutto nelle zone come la Via Tolstoi, appare nei reperti fotografici dei cittadini. Alcuni, nei commenti, sono molto arrabbiati con l'amministrazione, incapace, secondo loro, di occuparsi della gestione dei rifiuti. Altri, se la prendono con tutti gli incivili che dovrebbero essere sanzionati. E in molti si chiedono poi che fine abbiano fatto gli ispettori ambientali volontari, entrati in servizio già da qualche giorno. Una novità di cui si è dotata il comune, insieme all'installazione di telecamere montate in luoghi strategici di scicli, delle campagne e delle borgate. Sistemi di sorveglianza che però devono ancora dare risultati, visto che negli scorsi giorni l'emergenza rifiuti si è ampliata con il rogo di cassonetti in varie zone di campagna. L'ultimo, solo per ricordarlo, quello avvenuto la notte scorsa a San Giovanni Lopirato. E andiamo avanti. Incroci pericolosi a Ragusa e corse clandestine notturne a Marina di Ragusa. E' quanto denunciano diversi cittadini che chiedono all'amministrazione interventi urgenti e maggiori controlli. Sul caso anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Sentite. Alcune strade di Marina di Ragusa diventano di notte delle vere e proprie piste da competizione, dove non è raro imbattersi in corse clandestine. E' la denuncia che arriva da diversi residenti della frazione marinara di Ragusa e adesso sostenuta anche dai consiglieri d'opposizione del Movimento 5 Stelle. Il gruppo consigliare infatti punta il dito su quanto accade in via Cervia, lungo la strada che parte dalla zona della Guardia Medica, sino alla rotatoria che verso destra conduce a Casuzze, mentre a sinistra garantisce l'acceso su via Ottaviano. Sottolineano i consiglieri d'opposizione, si verificano soprattutto di notte vere e proprie gare di velocità con i protagonisti che improvvisano improbabili competizioni, mettendo a rischio loro stessi ma anche eventuali malcapitati che per caso si trovano a transitare da quelle parti. Chiediamo a chi di competenza di verificare e intervenire immediatamente. E poi, sempre a proposito di sicurezza, altro argomento che andrebbe trattato e risolto riguarda le diverse buche nel manto stradale. Per non parlare continuano i pentastellati di chi guida con in mano lo smartphone. A Ragusa esiste un problema di sicurezza stradale in via di Erna, in prossimità di via Falcone, nell'area di nuova espansione della città. Un crocevia diventato teatro di continui incidenti a qualsiasi ora del giorno e della notte. I residenti sono ormai esasperati, oltre che preoccupati per la recrudescenza del fenomeno. È un disagio serio, continuano i consiglieri pentastellati, e bisognerebbe adottare delle specifiche contromisure, magari aumentando i controlli o la dotazione delle telecamere di sorveglianza, oppure si potrebbe valutare la creazione di piccole rotatorie che garantirebbero un maggiore deflusso del traffico veicolare. E adesso una notizia. Nuovi passi avanti verso l'istituzione del Parco degli Iblei. Fissato per il prossimo 17 luglio al Ministero dell'Ambiente, un tavolo istituzionale con i commissari dei liberi consorsi comunali di Ragusa e Siracusa, il sindaco della città metropolitana di Catania e l'assessore regionale al territorio e ambiente. Sul tavolo ci sarà la proposta condivisa dagli enti interessati riguardante la perimetrazione e l'individuazione delle zone di tutela. Inoltre anche un sintetico schema dei relativi regimi di tutela che la regione siciliana ha recepito e trasmesso al Ministero dell'Ambiente. E adesso un'altra notizia. No, il reddito di libertà è una legge di civiltà. Ed è Mario Dasta del PD a sostenerlo e a chiedere all'amministrazione comunale di aderire a uno strumento che è utile per tutte quelle donne che hanno subito violenze fisiche e psicologiche. I dettagli nel servizio. Un reddito economico per tutte quelle donne che hanno subito violenze fisiche o psicologiche e che sono costrette a rimanere in una condizione di sudditanza. È la richiesta che arriva dal PD tramite il consigliere Mario Dasta facendo riferimento al cosiddetto reddito di libertà. Dasta invita l'amministrazione di Palazzo dell'Aquila a verificare in che termini a livello di sensibilizzazione e informativo ma anche operativo il comune di Ragusa possa aderire al reddito di libertà che, diventato concreto in Sardegna, è destinato a trovare applicazione al più presto anche in Sicilia dopo l'emendamento alla finanziaria presentato dal deputato regionale del PD Giovanni Caffeo. Il contributo economico ci sono le borse lavoro, i contributi per l'affitto o per andare ad abitare in un'altra regione e l'affido familiare, ad esempio, per giovani donne vittime di violenza. Ovviamente è prevista una graduatoria e sono favorite le donne con discriminazione multipla, come le donne con disabilità. I progetti in ogni caso sono personalizzati e mirano anche al reinserimento lavorativo. È una legge di civiltà che speriamo possa trovare applicazione al più presto anche nella nostra regione. I primi passi lungo questa direzione sono già stati compiuti. In realtà, infatti, in Sicilia la legge è attualmente in vigore perché è inserita nell'articolo 55 della scorsa legge di bilancio regionale e prevede un contributo al sostentamento economico sia per le donne vittime di violenza che per i figli conviventi. L'unico requisito è ovviamente legato al reddito che non deve essere elevato. Nel 2018 i ritardi nell'emanazione del regolamento previsto nell'articolo non hanno però consentito di spendere i 200.000 euro impegnati per il 2019. Purtroppo la lentezza burocratica e amministrativa ha ritardato enormemente l'applicazione della legge. C'è comunque un regolamento elaborato dal Dipartimento alla Famiglia. Il Comune, continua ad asta, dovrà raccogliere sulla scorta del suddetto regolamento le istanze e richiedere le risorse. Sarebbe opportuno che il Comune potesse adoperarsi sin da subito per comprendere come interagire rispetto alle previsioni normative allo scopo di favorire chi ne ha bisogno. È un'azione che è destinata a portare avanti soprattutto l'assessorato ai servizi sociali. Ma è l'ente di Palazzo dell'Aquila nel suo complesso che deve essere chiamato a creare i corridoi burocratici necessari per permettere l'adesione a chi ne ha necessità. Si tratta di un percorso di civiltà, ha affermato in conclusione d'asta, che tutti assieme dobbiamo cercare di compiere nella maniera più corretta. Troppi cuccioli abbandonati in strada a Vittoria. È quanto denuncia idea liberale che scrive alla Commissione straordinaria esortandola a prendere provvedimenti utili anche a frenare il fenomeno del randagismo. Segnaliamo, è scritto nella missiva di Idea Liberale, la presenza di circa sette cuccioli di cani randaggi nel quartiere Cicchitto. Alla luce di quanto segnalato dai residenti, i cuccioli sono stati mantenuti finora a spese dei cittadini che dimostrando grande generosità hanno provveduto al sostentamento degli animali. Idea liberale continua, occorre tenere in considerazione che i cani randaggi, soprattutto se abbandonati a loro stessi, impreda fame, sete e interperie, atmosferiche possono manifestare aggressività e rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre la zona in questione, stando a quanto riferito dai residenti, risulta diventata un abituale luogo di abbandono di cani o altri animali domestici. E cambiamo argomento, passiamo allo sport. Sono giorni importanti per il modica calcio alle prese con gli ultimi incontri utili a delineare il quadro dirigenziale. Intanto la stessa società ha dichiarato che vecchi e nuovi dirigenti saranno domani accanto ai tifosi per inaugurare la sede del gruppo Tradizione. Il modica calcio, pronta a ripartire in tutto sprint, si lavora senza sosta per prepararsi al terzo campionato di promozione consecutivo che dopo l'ampliamento della dirigenza e la nuova ventata di entusiasmo che ha provocato dovrebbe essere quello del definitivo rilancio. Una volta delineato e comunicato il nuovo quadro dirigenziale e non ci vorrebbe ancora molto, si ripartirà con le carte in regola per poter fare molto e meglio durante il prossimo campionato. Primo tassello del mosaico rosso-blu, quello di individuare il tecnico che guiderà i tigrotti sul quale girano già diversi nomi ed a giudicare da quanto comunicato dalla nuova società, il nome definitivo potrebbe essere deciso già nelle prossime ore. In parallelo si lavora sull'organico, molte altre società lo stanno comunicando in questi giorni e il modica calcio, anche se in leggero ritardo per via del nuovo quadro societario, sta comunque allestendo un organico comunica di un certo spessore che una volta ultimato sarà reso noto alla città. Un occhio di riguardo intanto verso i tanti tifosi e appassionati che non hanno mai smesso di supportare la squadra della Contea. Il neopresidente Michele Zocco, il direttore sportivo Pippo Vicari, Antonio Sammito e altri vecchi e nuovi dirigenti saranno presenti domani all'inaugurazione della sede del gruppo Tradizione in invico Ruffino, 45, in pieno centro storico. Tutti i dirigenti dei Tigrotti hanno infatti accolto di buon grado l'invito del gruppo di tifosi che, così come la dirigenza Rosso-Blu, ha a cuore le sorti del modica calcio. Ci è sembrato giusto, commentano unitamente vecchi e nuovi dirigenti del modica calcio, partecipare all'inaugurazione della nuova sede dei nostri tifosi. Loro, per noi, sono una parte fondamentale perché grazie a loro troviamo le motivazioni e l'entusiasmo per continuare a lavorare e a costruire qualcosa di buono per tutta la città. Parteciperemo con entusiasmo a questo evento e per l'occasione abbiamo preparato una piacevole sorpresa rivolta soprattutto a coloro che la domenica colorano di rosso-blu le gradinate dei campi dove in scena il modica calcio essere accanto ai tifosi è sempre importante anche a dimostrare che ci crediamo, che ci siamo e che abbiamo la forza di portare avanti un progetto iniziato qualche anno fa da Mombo Carpentieri che continua a migliorarsi per arrivare pronto a una nuova stagione che potrebbe riservare tantissime sorprese. Ancora una notizia di calcio, il portiere del Ragusa, Giuseppe Agliano, 32 anni continuerà a vestire la maglia azzurra anche per la prossima e imminente stagione in eccellenza. Lo ha comunicato proprio in queste ore, resto perché credo che qui si possa fare qualcosa di veramente importante. Ha commentato Agliano che continua molto presto, potrò cominciare gli allenamenti e devo dire che non vedo l'ora dopo l'infortunio lo scorso gennaio contro il Pozzallo. Continuiamo ancora con lo sport. Piazza Malta a Marina di Ragusa diventa il palcoscenico del Dunk Show, lo spettacolo di basket acrobatico. I protagonisti sono due campioni di schiacciate. Vediamo. Tanti piccoli spettatori incantati dalle schiacciate dei campioni di basket acrobatico. È successo giovedì sera a Marina di Ragusa in Piazza Malta a esibirsi due skyjumper Marco Favretto e Salvatore Caruso all'evento organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Orange Basket. Il primo atleta è campione nazionale italiano in carica di schiacciate e ha partecipato ai mondiali FIBA 3x3 World Tour in Cina, salendo sul podio con un meritato bronzo. Caruso invece figura tra gli schiacciatori professionisti più bassi al mondo. Infatti è alto solo un metro e 75 ed è vice campione italiano di schiacciate. Ed è un'occasione per festeggiare assieme a tutti quelli che in questi anni ci hanno seguito e ci hanno voluto bene la ventesima edizione dell'Orange Camp con una serie di spettacoli all'interno dell'Orange. Questo di stasera è uno di questi, gli skyjumpers. Per noi è un grande onore e un grande piacere. Devo dire con l'aiuto del comune e con l'aiuto di tanti amici che in questi vent'anni ci hanno voluto bene e ci hanno sostenuto. Ma soprattutto con l'aiuto delle famiglie che ci hanno mandato circa 8.000 bambini e bambine da tutte le parti d'Italia. Quindi anche quest'anno siamo qui a festeggiare con grande voglia, grande sentimento di andare avanti e soprattutto per dire un grazie a tutti e alla città di Ragusa. La schiacciata, come dicevi tu, è l'essenza dello spettacolo nel basket. Un atleta che vola in aria e che produce con un effetto devastante due punti in maniera incredibile che rimarranno nell'immaginario collettivo di un bambino. Stasera questo spettacolo è proprio questo e vi invito tutti a vederlo perché è veramente qualcosa di unico. Tra l'altro gli skyjumpers per la prima volta in Sicilia, proprio qui per l'Orange Camp a Marina di Ragusa ed è veramente un piacere ospitarli. Bisogna avere tanta passione come in ogni cosa. Io sono partito dal campetto dove per l'appunto devo allenarmi ogni giorno perché lì c'erano i canestri a mini basket, quindi mi sono approcciato proprio alla schiacciata partendo dal basso diciamo. E col tempo poi allenandomi ogni giorno e portando sempre movimenti sempre più nuovi e piano piano poi ho portato la schizzata sul canestro regolamentario e mi sono andato a fare i primi spettacoli. Quindi per chiunque voglia iniziare, come consiglio sempre, l'ideale è partire dai canestri a mini basket. Sono partito da Lentini, praticamente mi sono spostato fino ad arrivare a Milano dove ho conosciuto Marco che poi mi ha fatto appassionare questa splendida disciplina. Io non ho mai giocato a basket perché non mi ha mai appassionato diciamo il basket normalmente però ho visto Marco che stava schiacciando appunto su questi canestri e vedere questo gesto atletico mi ha fatto appassionare alle schiacciate. E adesso in chiusura una notizia, una veglia per non dimenticare i tanti morti in mare. Si è tenuta ieri sera nell'anfiteatro Pietre Nere di Pozzallo. Momenti toccanti e di preghiera per le tantissime persone che ieri si sono date appuntamento davanti al mare. Presente anche Don Angelo Giordanella che ha parlato non di migranti ma di fratelli defunti, di uomini, donne e bambini che hanno un volto e un nome, una storia e dei sogni infranti. E' stato poi proiettato un video realizzato da Elvira Occhipinti, il racconto di alcuni migranti scampati agli orrori della Libia. A seguire infine diverse e toccanti testimonianze e racconti di gente fuggita dal proprio paese con soltanto tanti sogni, paure e tristezza. E non ci sono aggiornamenti per il momento è tutto. Grazie e a risentirci alle prossime edizioni.